Musica Prima di arrivare a queste due locandine tra cui torniamo veramente tra una manciata di secondi giusto una informazione di servizio che riguarda sempre il mondo Axi e che riguarda nello specifico il campionato nazionale strada open appunto di Axi in programma in provincia di Teramo a Sant'Onofrio di Clampi domenica le maglie verranno assegnate ai tesserati Axi può sembrare una cosa assolutamente normale ma diciamo che su questo c'è stato un lungo dibattito che poi non riguarda solamente l'Axi torniamo allora però alle due locandine di qui sopra riguardano nello specifico il circuito pedalazium con due appuntamenti uno il 31 luglio e l'altro il 4 settembre il 31 luglio si tratta di un percorso marathon valido per il titolo nazionale Marathon Axi ciclismo 2022 al percorso ciclo turistico in contemporanea si potrà partecipare anche con EMTB e Gravel l'altra invece in data 4 di settembre quindi alla destra dei vostri teleschermi e la Gran Fondo Città di Subiaco le iscrizioni per entrambe gli eventi sul sito di Crono Service e appunto quello del pedalazium tutti i due gli eventi sono appunto nell'Axi ovviamente proprio nella zona di Subiaco grazie a tutti